Era domenica mattina a Itaca, quando le cose improvvisamente presero una piega inaspettata. Guardami, sono un topo, sono un topo! Mangiami, 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 mangiami! Andiamo. È meglio che mangi, Mitch, prima che lo faccia io. È saporito? È saporito, Mitch? Perché mi hai mentito? Che ho detto? Hai detto che Josh era partito per Boston. Non è vero, ho detto Austin. Hai detto Boston! E per colpa tua la vita di un ragazzo di Boston è rovinata. E allora? E poi che differenza fa? Ovunque sia andato, c'è andato per colpa tua. Che vuol dire per colpa mia? Senti, è ovvio. A Josh gli piaci. È disgustoso. Ho saputo che è ritornata. Ma che cosa vuoi? Allora com'è andata la tua fuga d'amore con Josh? Non sono stata con Josh. Ah, certo. Non importa perché Josh non sarà ammesso al prossimo semestre. Non ce la farà con filosofia. Ma di che stai parlando? Vedi, lui è convinto di aver posticipato l'esame. Ma, grazie a una certa persona, me. Non è così? È proprio un idiota. Tu sei pazzo. Oh, mio Dio. 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 Oh, mio Dio.